Sono molto felice di aver raggiunto il mio primo piccolo grande traguardo con questa società che mi ha cresciuto sin da quando sono bambino. Ha mostrato a tutti il suo talento con una punizione calciata nei minuti finali dello stadio intitolato a Diego Maradona in una notte storica che lo ha fatto conoscere al mondo e che ha commosso tutta la sua famiglia originaria di Napoli. Spesso guardo i video di Diego perché mio papà è napoletano e mi dice sempre che è stato il migliore di tutti. Nato nel 2006 a Monfalcone, un piccolo comune del Friuli Venezia Giulia, Simone Pafundi ha iniziato a giocare a calcio quando aveva 5 anni nel club della sua città dove fin da subito si è sentito a suo agio a giocare con i bimbi più grandi. Quando aveva 8 anni durante un torneo regionale dedicato ai 2004 ha impressionato tutti al punto tale da convincere gli osservatori dell'Udinese a puntare proprio su di lui. Vede spazi e tempi di gioco che gli altri non vedono, riesce a intuire cosa accadrà nell'azione che si sta svolgendo. Anche a Udine ha continuato a giocare con i compagni sotto età, prima con i 2005 e poi con i 2004. Era il più piccolo di tutti ma in campo era il più forte e metteva in difficoltà qualsiasi avversario. Durante un torneo in cui ha affrontato le stelline di Juve Inter, più grandi di lui di due anni, è stato infatti premiato come miglior giocatore grazie al suo mancino sopraffino e alle giocate da trequartista puro. A Udine, dove ha trovato l'ambiente ideale per coltivare il suo talento e continuare a bruciare le tappe, ha prima coronato il sogno di giocare in primavera con il fratello Andrea e poi ha scalato la trafila delle nazionali giovanili fino a diventare protagonista nel mondiale annerventi. Mio fratello per me è tutto, condividere lo spogliatoio con lui mi ha dato una grande mano per rendere al meglio. Con l'Udinese a 16 anni è diventato il primo calciatore della sua età a firmare un contratto da professionista. Nonostante molti lo definiscano il nuovo Messi o addirittura l'erede di Maradona, per via delle movenze simili e del modo di accarezzare la palla con il mancino, Simone ha sempre continuato a lavorare duramente senza montarsi la testa, circondato dall'affetto dei suoi cari che hanno cercato di proteggere la sua carriera da predestinato. So che ci sono delle aspettative su di me, ma ho 17 anni e a volte si esagera. Devo ancora dimostrare tutto con l'Udinese. Il mio sogno è quello di fare l'esordio in Serie A con questa maglia, perché ci sono molto legato. Dopo un anno di primavera, a 16 anni, non solo è entrato in pianta stabile nella prima squadra dell'Udinese, ma dopo aver impressionato anche il Cittimancini, ha debuttato con la nazionale maggiore, diventando il più giovane esordiente degli ultimi cent'anni della nazionale. La convocazione e l'esordio in nazionale sono stati una grande sorpresa e una gioia immensa per tutta la nostra famiglia. Convocato nella spedizione Under 20, che ha sfiorato l'impresa ai mondiali in Argentina, ha dimostrato con quella punizione di essere sulla buona strada per raccogliere l'eredità dei grandi numeri 10 del calcio italiano. O almeno è la speranza di tutti gli italiani che aspettano una nuova generazione di campioni. È un vero talento e ha qualità incredibili. La speranza è che possa giocare in A e in nazionale per i prossimi 20 anni. Prima chiamo Pafundi, poi tutti gli altri. È questo che penso quando faccio la lista dei convocati. Grazie a tutti.